Hai fatto caso a come gli uomini ti guardano? Perché cosa sono io? Divi, tu sei una ninfa. Non provare affetto per nessun umano. Stanno arrivando. Perché uno di voi due dovrà morire. Non resisterete. Gli uomini hanno combattuto guerre per noi. NIMS, la nuova serie in esclusiva. Da martedì 29 alle 21.10, solo su Sky 1. NIMS, la nuova serie.